Il tempo è ormai scaduto, ma qualcuno direbbe, meglio tardi che mai, arriva alla firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su regolamento che disciplina l'istituzione del Comirato Promotore per le celebrazioni dell'anno ovidiano. Nulla di nuovo sotto al sole rispetto a quanto aveva annunciato il mese scorso la senatrice pentastellata, Gabriella Di Cirolamo, che stigmatizza le polemiche che arrivano dalle forze di opposizione. Il Capo dello Stato ha firmato il DPR del 22 maggio 2019, ovvero su regolamento per l'attuazione della legge numero 226 del 2017, che prevede l'istituzione dell'anno ovidiano e la celebrazione della ricorrenza alle 2000 anni della morte di Ovidio. Questo significa che a breve il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ricorda la parlamentare, ed entreremo finalmente nel vivo dell'organizzazione di questa solenne ricorrenza che celebreremo, ahi noi, sì in ritardo, ma che celebreremo. Troppe sono state le grida di allarme provenienti da quella parte politica miope e capace di riempirsi la bocca di tante promesse puntualmente disattese. Il Movimento 5 Stelle, quello che dice fa e sono fiera che proprio la mia città, sul Mona, sia stata scelta con determinazione per dimostrare concretezza delle nostre azioni. Rivendico con orgoglio questa vittoria ottenuta solo grazie all'attenzione posta dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle nella persona del sottosegretario Mibac Gianluca Vacca e nella sottoscritta Naturalmente. Il braccio di ferro continua, ma ora bisognerà capire concretamente come spendere quei 700.000 euro che il Governo ha stanziato e dove destinarli, visto che il bimilenario è ormai arrivato ai tempi supplementari.